Grazie a tutti Qui c'è un torneo di drapata Iniziamo A farlo a modalità difficile Perché tanto nel drift Dovrei essere bravo Cheat Non mi ricordo quasi più i tasti Come fanno loro ad essere già lì Boh Uuuh dio Venuto male Vabbè Ce la possiamo fare lo stesso Oddio Quanto l'ho rischiata No Vaffanculo Dai siamo ancora davanti Non mi da troppi punti Perché le prendo Prendo male le curve Devo prenderle bene Noo vabbè Ok raga non sono più capace Guarda qui Guarda qui Troppo lento Zio Più di così non è che posso Noo vabbè No vabbè Ormai aveva preso i punti Cazzo Come fa di essere così tanto Quello lì No Niente raga Si riprova No 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 Grazie a tutti. 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 Fai più punti andando dritto, poi lo metti di traverso e sti cazzi. C'è uno schifo. Vediamo se riusciamo a rifarci su questa. C'è uno schifo. C'è uno schifo. Oh mio dio, stavo per andare... Dio mio. Ok. Ah, qua mi sa che non ce la faccio. Oh, ci riesco per poco. Vedete? Vedete, l'importante è prenderle... Strette. Oh mio dio, come l'ha salvata. Ecco, adesso ho fatto un po' schifo. speriamo... Speriamo... Oh, minchia. E che cazzo. E che cazzo. Per una calavinco. Mi... No, 110.000. E beh, però quello lì c'era eh. 107.000 ho fatto. Ok. Ok. Oh, non mi danno ancora niente per l'estetica. Impressionante. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cos'è questo? Con già la prima curva. Questa è già meglio. Oh mio dio. Mio dio, cosa ho fatto? Allucinante. Nooo, vabbè, non ci credo. Cioè ho sminchiato tutta la prima derapata con... Con questa curva. E minchia, raga. Cioè è malato così tanto perché l'ho presa stretta. Vedete che qui c'è... C'è tutto pezzo qui dritto. Poi c'è un'altra curva qui. No, vabbè, ma non ci credo, ma... Sta gara non ce la faccio, raga. Mi giuro non ce la faccio. Dopo la rifaccio. Ma è arrivato a 10.000 punti in una cazza di derapata. Cioè in una sola. Ooooooh. Dio mio. Vedete, l'importante è prenderle strette. Poi il resto non gliene frega un cazzo a nessuno. Mio dio che pelo che gli ho fatto. Cioè raga, vedete, se... Se fate i peli è un qualcosa di impressionante. Suona brutto da dire così però. Cioè raga, guardate. Se la metti di traverso tanto abbastanza veloce sul cordolo è impressionante. Prendi miliardi di punti. Vabbè. Era proprio quella mappetta lì che mi faceva cagare allora. C'è un'altra o... No. Basta, ha finito il torneo. Allora. Personalizza auto estetica. Cos'è che mi ha dato? Aerografie. Rimuovi. Io voglio... Questa non c'è ancora. No, fai cagare il cazzo. No. Carrozzeria, perché non posso ancora? Fiancata. Fiancata. Moderni. Ah, ok. Sì, me ricordo questi. Direi... Ecco. Io direi niente. Perché è più bella senza niente. Vernice. Cambiamo la... Il colore perché mio dio mi fa troppo schifo. Gliela mettiamo nera stavolta. Ok. E cerchioni. Verdi. No, verdi no, no. Neri per forza. E, 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 e... Aspetta. Accessori. Posso prendere qualcosa? Blu, arancio, giallo, acqua, bianco. Direi bianco. Fare... Fare niente. Pusserriore ancora niente. Terminale questo. Tinta del finestrino, me ne frego. Cerchioni, carrozzeria. Questo ancora niente. Allora si va su performance. Qui ho già quello a livello 2, sì. Ok. L'impianto. Ok. Kit turbo. Poi kit freni. Performance. Ok. Ok. E, riduzione peso. No, riduzione peso niente. Neanche i kit sospensioni. Bastardi. Ehm... Se gli facessi scambia, tipo... Eh, però anche la golf ci sta così, eh. Però vabbè. Io ho la mia bella neon. Ci teniamo la neon. Allora. Eliminazione. Facciamo media, come al solito. Minchia l'eclipse. La celica. E l'ultima, la macchina che voglio. Via. Nuzze! Vi giuro avevo letto Ninuzzo. Vi giuro avevo letto Ninuzzo. Fatetto. Ma che cazzo? Minchia, senti come spinge adesso? Eh, poi nera al suo stile, eh. Mio Dio che... Che culo. Che contro il muro classico. Qui si taglia. Bastardo, anche uno di loro l'ha tagliato. Qui è tutto... Wow! Mio Dio! Che rischio! No, dai! Dai, ma ha laggato! Si, so... L'ha... L'ha trapassata! Cioè, nel senso, gli salita sopra? Dai, raga, ma cos'è? Ma... Oh, ce l'ha fatta! Si è rimessa dritta! Ecco. Ho perso. Vedi? Vedi? Una stranza... Che culo! Mio Dio che culo! Ecco, adesso andavo contro io contro quello lì. Raga, che culo, che culo, che culo! Ok, ce la si può fare ancora... Ce la si può ancora fare. Anche quello lì si è andato a schiantare adesso. Ora... Basta che non arrivino macchine... Oh, fuck! Eccola lì, la macchinina. Qui c'è sempre! Ormai ho capito dove sono le macchine che... Oddio! Sto camion non c'era. Sempre di qua. Raga, devo togliere le cose del tempo in volo, perché se no... Minchia... Non so... Cioè, ti distrae troppo. Oh mio Dio, quella macchina. No, no, adesso non mi fotti. Oddio. Perché non riesco ad andare dritto, raga? Oddio, oddio, che curva! Ecco... Contro quella. Vabbè, dai, va bene, va bene. Guarda, guarda come sono arrivato! Sì, vabbè. Poi... Un altro testa a coda no, eh! Cazzo! Ti prego, vatti a schiantare. Schiantati. Adesso mi vado a schiantare io. Minchia, non male che mi sono spostato che c'era quella macchina lì. Dai, è ancora qua. Ce l'assimo... Come fa a fare questa curva qui così veloce e precisa? Dai che non ha preso la scorciatoia. Dai che non ha preso la scorciatoia. Non posso raggiungerlo però... Qualcosa li recupero. Se non pre... Se non prendo macchine dentro. Vaffanculo! Vabbè, io ci spero ancora. No, ha preso però la scorciatoia. Io ci spero ancora che si schianta lì. No, per il cazzo si è schiantato. Dai che l'ultimo si è schiantato. No, dai, ma questo cosa ci fa qua? Già una curva stretta di merda. Guarda, mi è passata sotto! E io sto attraversando tutto... Ma non ci credo, non ci credo, non ci credo. Quando non vedi nessuno all'orizzonte, in quella curvetta lì... Qui non ci devono essere macchine! Guarda, guarda... Mio Dio, guarda che figlio puttana che anche lui... Cosa fa la mia macchina? Cos'è? Fa il buon ride fa... No, vabbè. Come sono arrivato? Oh mio Dio! Niente raga, devo andare dritto, sennò prendevo in pieno quelle macchine lì. No! No! No, vabbè. Dai che terri giusta! C'è un cazzo. Dai, ma rimane lì fissa adesso! Guarda, è rimasta lì! No, ma dai, ma non ci credo, ma io non lo so, ma... Sì, poi... Vai macchina! Cos'è quella cosa? Perché è arrivato quel triangolo, quel quadrato lì bianco? Vai macchina, vai macchina. So che io e te ce la possiamo fare. Dio mio! Guarda come mi taglia la strada! No raga, però sto pezzo devo per forza farlo così. Ok. Bravo, bravo. Ecco, qui non me ne frega. Tanto qui adesso abbiamo... Sì, beh, però... No. Sì! Vai! No, ma te, ma non ci credo! Vabbè, siamo qui. Siamo qui tutti e due. Va bene così. Lo so raga, non voglio rischiare. No! No! Dai che si è andato a schiantare pure lui! Dai! Vai! Vai! Sì, cazzo, sì! E andiamo! E andiamo! E va a vincere! Dopo vintidue volte andiamo... Va a vincere! Minchina ragazzi, sono qua pezzato! La guerra più sofferta del mondo è stata questa. Allora, vediamo un po'. Minigonne. Sì, beh, sono particolari, però comunque... Io c'ho questa, quindi ci sta. Allora... Mappa gare, sbandata e sprint. Facciamo sbandata che... Se vuoi finire in copertina devi vincere questa gara. Stai tranquillo. Facciamo medie che sennò magari ci mettiamo vent'anni per finirla. Ehhh. Tanto questa qua tanto la rifar... No! Ecco, è quella che non mi piace, mi sa. Adesso la rifarò ventidue volte questa. No, ok, non è quella che non riesco. Questa qua riesco abbastanza. Perfetto. Oh! No! Mio dio come... No! Eh, raga, quando... Quando sei così stretto devi tipo... Dovete tipo... Tenere premuto l'acceleratore e il freno a mano. Cosa meno tipo slitta in... Solamente in verticale. Dai, ma non è possibile. E non va in... Anche in avanti. Cioè dipende. Poi se siete troppo veloci non... Non ce la fa la macchina, però... Di solito funziona. Figa te che... Che roba concatenato ha fatto. Ecco poi, vedi... Ste curve queste qua U. Non riesci a farle questo gioco. Non... Non... Non rimane inderapata sto... Sta cazzo di macchina. Ecco, ho sbagliato. Porca puttana. Anche qui. Vabbè. Abbiamo tanto margine... Con questi cazzi. Vabbè, easy. Allora. Ok. Ora abbiamo... Vabbè, siamo in copertina. Sì, va bene. Non me ne frega niente la copertina. E... 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 Dobbiamo fare la sprint. Ok, ho conquistato l'ottavo posto. La copertina. La tua auto sembra davvero tostissima. Tostissima. Minca sei spessissima. Allora, mappagare sprint. L'ottavo posto non classifica sprint. Però vedete, avanzamento 41 su 111. Quindi quasi a metà siamo. Cioè non so se quello conta con l'avanzamento del gioco. Non lo so. Presumo. Via. Grazie, mi viene addosso. Minca l'eclipse così quanto mi fa sborrare. Oh! No, vabbè, è troppo bello. Spero che non ci siano cazzo di macchine. Ok, vabbè, adesso pure contro di me. Qui devono passare per Chinatown, mi sa. Cioè nel pezzo quello... Eh, infatti questo. Che odio, altamente odio questo pezzo. Boh, io provo anche ad andare di qua. Però non mi ricordo la strada. Ecco. Sono andato a schiantare. Mi ha pure recuperato. Io ho preso la scorciatoia e lui mi ha recuperato. Io so che qua devo andare dritto. No! Oh mio Dio, cosa... Eeeh! Ma che cazzo? Ok, ok. C'è ancora tempo. C'è ancora... C'è ancora... Mio Dio se prendiamo anche quella. Non prenderla. Bravo! Non so che macchina... Ah, è un'altra eclipse uguale però. Cioè stessa estetica cambia solamente il colore. Minchia raga. Se la scannano questi. E' difficile. Poi inizia a laggare. E vabbè, poi... Cazzo è? Ok. Prendi questa scorciatoia mini. Minchia è già lì il traguardo. Allora... Oh, questi due si scannano e vanno... Che cazzo ho preso? Cosa ho preso? Dai! No, ma io non ci credo. Cioè ma oggi veramente è il giorno della sfiga di merda proprio. Guarda! Ecco. E sono arrivati. E loro sono arrivati. E' nero. Per me è nero. E' nero raga. Ci porta sfiga quello. Come fai ad arrivare così veloce? Dio santo. Tiè merda! No vabbè manco... Incredibile. Oh raga è sempre... No eeeh! Poi? Siamo tutti qua. Un errore e son fottu... Si! Si che sei andata... Sei vaffanculo vaffan... Ti è pezzo di merda. Ti è pezzo di merda con le clips che fai tanto il figo. Olè! Si! Ah no era una supra tra l'altro. Una era una supra e l'altra era la clips. Toyota Celica. Mica fu già sblocata la Celica. Vabbè. Continua. Raga vi giuro questo... Questo episodio è quello più... Sofferto di tutti. Incredibile. Allora. Appagare. Accelerazione. Direi di fare questa e poi... Vi abbandono. Sta macchina qui non è brutta così. Però non so che macchina sia. Boh. Adesso ho vent'anni per cercare di farlo giusto al primo cambio. Vabbè. Almeno l'ho un po' tirata. Come fuori i giri. No raga. Devo rifare. Perché ho sbagliato tutti i cambi. Assolutamente tutti i cambi ho sbagliato. Oh fuck. Poi non ho ancora capito se c'è la sesta o no. Boh. Uno, due, tre. Fuori i giri. Come fuori i giri? Era giustissimo comunque. Sempre più difficile perché è sempre più veloce. Ecco cazzo non me ne sono accorto. Eh no. Oh. Oh mio dio. Oh raga è incredibile. Quello lì è impressionante. Va come un... Va come un mostro. Oh si riesce a prendere la scia. E raga più di così non va il motore. Motore rotto? Cazzo raga. Cioè. Non c'è un'altra marcia. Ah. Allora. No. Allora. E già... N disse раб Ricky di vicino. e sono arrivato. Estremmo. Quedate qui? No. Dai 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 Sì E qui ce la fanno E ce la fanno Finalmente Anche sbagliando il primo cambio Mio dio Continuo Minchia che episodio è sofferto questo Allora raga Se il video vi è piaciuto Invita a lasciare un like e un commento Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo nel prossimo video Di InfoSpeed Spero che adesso inizieranno a diventare un po' più Diciamo consistenti le gare E nulla Ci becchiamo nel prossimo video Bella